Il pastore belga Malinois appartiene al gruppo 1, è un cane medio lineo, armonicamente proporzionato e rustico, più piccolo, più leggero e agile del pastore tedesco. I maschi sono alti 62 cm al garrese e pesano dai 25 ai 30 kg, le femmine sono alti 58 cm al garrese e pesano dai 20 ai 25 kg. È un cane nevrile, attivissimo, facilmente addestrabile e dà l'intelligenza pronta, estremamente versatile e adatto a ogni tipo di lavoro. È molto utilizzato come cane da guardia e difesa, in tempi recenti è stato usato in agility con ottimi risultati, quasi al pari del border collie. È impiegato come cane poliziotti, in famiglia allegro e giocherellone anche con i bambini, la sua gestione è piuttosto semplice, basterà spazzolarlo un paio di volte a settimana, la sua educazione non richiede particolare impegno, essendo un cane versatile e intelligente, si adatta anche alla vita in appartamento a patto che venga fatto uscire di frequente e vive in media 10-14 anni. In sintesi, il pastore belga Malinois è un cane vivace, giocherellone e intelligente in cerca di un amico con tempo da dedicargli per farlo crescere e vivere al meglio.